Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti a questa conferenza. Sono Taguchi e sono curatore di Omiya Bonsai Museum. Conduco io questa conferenza. Questa conferenza è stata realizzata in occasione del trentesimo anniversario della fondazione della Nippo Bonsai Sakakyo-Kai, NBSK, con la collaborazione del nostro museo. Il tema di oggi è Invito agli alberi famosi, la ricerca della bellezza del bonsai. Due maestri parleranno delle opere presentate alla Mostra di Casari e della Via del Bonsai. Ora vi presento i due ospiti. Il primo è il maestro Uhaku Sudo. È un membro del consiglio direttivo dell'NBSK ed è proprietario di Chikufuen, che si trova nella città di Shimotsuke, nella provincia di Toshigi. Il maestro Sudo è il secondo yemoto di Keido, una scuola che si occupa dell'arte della decorazione con bonsai nella Zashiki, cioè nella stanza tipica giapponese con tatano. Vorrei darvi una breve introduzione al Keido. Il Keido è l'arte di allestire paesaggi e la natura con bonsai, kakejiko sui secchi e altri oggetti decorativi su Tokonoma o in spazi architettonici, nel caso in cui non ci fosse il Tokonoma. È un'arte che permette di trasmettere il suo spirito e le sue peculiarità. Oggi abbiamo invitato come interlocutore il maestro Kunio Kobayashi, anche egli membro del consiglio direttivo dell'NBSK ed è proprietario del museo di bonsai Shunkaen. Il maestro Kobayashi è un artista di bonsai attivo sia a livello nazionale che internazionale e nel 2020 gli è stato conferito il premio dell'Agenzia per gli Affari Culturari. Rappresenta gli artisti di bonsai sia di nome che di fatto. Oggi avremo un dialogo tra i due maestri che vi ho appena presentato. Poi vi mostrerò una proiezione di diapositive delle opere esposte nella mostra e i maestri le commenteranno. Quest'anno il Sakateng è il trentesimo, ma voi due vi conoscete da tempo? Sudo Dunque l'ho conosciuto attraverso la coltivazione di Satsuki Azalee prima ancora di fare bonsai. Ho visto che ero una persona di talento e l'ho invitato all'associazione di bonsaiisti. E ora mi ha superato per diventare un meraviglioso bonsaiista attivo in Giappone e nel mondo. Moderatore Maestro Kobayashi Lei faceva i bonsai di Pini e di Ginepri? Kobayashi Prima di bonsai facevo floricoltura. Coltivavo con volvoli, alkekenji, eccetera. Il maestro Sudo mi ha guidato in molti modi. E quando sono entrato nella cooperativa di bonsai, lui era il presidente. A quel tempo mi ha allevato e abbiamo studiato insieme il keido del maestro Katayama. In un certo senso, penso che sia stato grazie al maestro Sudo che mi sono avviato su questa strada e gli sono grato. Moderatore Lei ha appena menzionato il keido, ma secondo quanto ho sentito, il maestro Sudo è diventato il successore del maestro Katayama, fondatore di keido. E ora il maestro Kobayashi succede al maestro Sudo come terza generazione. Maestro Sudo potrebbe spiegarci di più su keido? Sudo, il mio maestro, Ichiyu Katayama, è stato il presidente fondatore dell'associazione giapponese di bonsai. È stato lui a convincere l'Agenzia per gli affari culturali a riconoscere i bonsai come forma d'arte rappresentativa del Giappone. Penso che fosse stata l'unica persona in Giappone culturalmente, spiritualmente ed esteticamente abile nel bonsai. Ho avuto la possibilità di incontrarlo attraverso la coltivazione di satsuki. Anche egli coltivava il satsuki. Ha detto che la cultura giapponese, il galateo e i vari aspetti culturali sono necessari affinché il bonsai diventi un'arte rappresentativa del Giappone. Quindi mi ha chiesto di venire da lui per insegnarmi. E pensai che questo era un meraviglioso insegnamento di cui l'associazione bonsai aveva bisogno. Così scelsi cinque giovani che mi accompagnassero, che pensavo avrebbero avuto un futuro. E uno di loro era il maestro Kobayashi. Quindi, beh, c'era un grand'uomo. Il maestro Kobayashi, d'altra parte, aveva smesso di fare il suo mestiere precedente e arrivò senza avere alcuna conoscenza del bonsai. Così riusciva a entrare con una mente aperta, soprattutto nella parte culturale, spirituale ed estetica, dove di solito i bonsaisti non riescono. Chi è stato nel mondo dei bonsai per molto tempo o è entrato con una certa conoscenza del bonsai, non riusciva ad accettare certe parti degli insegnamenti del maestro Katayama. Tuttavia, poiché il maestro Kobayashi è entrato nel mondo del bonsai senza precedenti conoscenze, gli insegnamenti del maestro Katayama gli sono arrivati in modo più semplice e diretto rispetto a noi. È così che ho conosciuto il maestro Kobayashi. Il maestro Katayama pensava che bisognasse insegnare lo spirito, la cultura ed estetica che allora non esistevano nel mondo del bonsai. Quindi, prima di tutto, ha pensato di insegnare ai commercianti di bonsai e alle persone che fanno bonsai e ha affidato questo compito a me. In realtà, non era un insegnamento di Keido, ma era un insegnamento sulla via del bonsai. Sarebbe stato presuntuoso per me insegnare il bonsai Do quando c'erano così tanti altri grandi maestri di bonsai. Per questo motivo abbiamo pensato di insegnare lo spirito della via del paesaggio e prendendo due ideogrammi di paesaggio Kei e di via Do nacque l'insegnamento del Keido. Keido non può essere insegnato in un giardino. Così scelsi come luogo di insegnamento il tempio Shimosukeyakushiji, dove vivo. E' così che iniziò Keido, come appena spiegato. Imparando dal maestro Katayama, noi, i suoi primi cinque discepoli, abbiamo raccolto allievi e abbiamo insegnato e diffuso l'allestimento di bonsai basato su un comportamento corretto nella stanza con tatami dell'associazione di bonsai in conformità con l'etichetta giapponese. Ed è così che Keido è venuto a esistere oggi. Ora il Keido viene appreso da molte persone in tutto il Giappone, ma abbiamo esposto per la prima volta nella mostra Daikanten a Kyoto. E' stato alla mostra di Daikanten che ho creato il primo Sekikazari, cioè allestimento per l'esposizione di bonsai. E' lì che gli insegnamenti di Keido hanno preso vita. Abbiamo allestito bonsai con kakejiku, dipinti giapponesi, eccetera, che sono rappresentativi della cultura giapponese. Sono stati combinati come accompagnamento per creare lo spazio di Kurita, la persona che ha perfezionato il modo di esporre i bonsai nel Tokonoma, il luogo più prezioso della casa giapponese, dove possono essere ammirati e venerati. Il bonsai non è solo la vista, ma attraverso i bonsai si possono godere e immaginare vari paesaggi, come quelli di montagne, di fiumi e dell'universo, grazie a uno spazio yugen, che viene creato nel Tokonoma, dove le persone possono godere del bonsai seduti e prendere un tè o un pasto. Ciò che il Keido deve fare in futuro è diffondersi tra la gente comune. Questo è quello che mi aspetto dal maestro Kobayashi, il mio successore. Moderatore, lei ha spiegato la storia e la situazione attuale del Keido e ha detto anche che il Keido si sta diffondendo. Nel nostro museo abbiamo anche delle stanze con Tokonoma, quindi, in occasione di mostre come questa, possiamo vedere i paesaggi attraverso l'idea del Keido e dell'allestimento, vero? Kobayashi, il bonsai è una pianta, giusto? Le piante crescono, no? Penso che ci siano modi per godere il piacere di coltivare, il piacere di fare, il piacere di godere lo spirito dell'allestimento. Sono tornato ieri dalla mostra Taikantin, in cui ero un membro della giuria, e tra le opere che mi hanno colpito di più c'era l'allestimento. Questo mi rende felice, perché la gamma di modi in cui gli spettatori possono godere del lavoro dei bonsaiisti si è ampliata. In questo senso, penso che abbiano fatto un buon lavoro. Moderatore, la mostra Taikantin si tiene a Kyoto ed è conosciuta come la mostra Kokufu-ten che si trova nella parte orientale del paese, cioè a Tokyo, mentre la mostra Taikantin è nella parte occidentale, cioè a Kyoto. Queste due sono le più grandi mostre di bonsai. Il vostro lavoro di Keido lì c'era e ancora oggi è presente come Zashiki Kazari, cioè allestimento nella stanza tradizionale. Sudo, non è che ci sia ancora presente, questo è solo l'inizio, verrà perfezionato in futuro. Moderatore, quindi nel Chikufu-en del maestro Sudo e nel Shunkain del maestro Kubayashi si può vedere l'orma dell'insegnamento del maestro Katayama. Kubayashi, il Keido richiede un luogo per l'esposizione. Per esempio, non importa quanto sia bravo un attore di Kabuki, ma ballare su una stuola di paglia non è sufficiente. Abbiamo imparato dal maestro Katayama che l'ambiente adatto è necessario. Sudo, sì, è proprio così. I giapponesi hanno perso l'idea che il Tokonoma è un luogo speciale. Moderatore, oggi è quasi scomparso dalle case dei giapponesi. Sudo, il Tokonoma è un luogo in cui si deve portare rispetto. così portiamo rispetto ai rotoli appesi, ai bonsai esposti e all'artista. Ed è importante per il Keido una buona maniera di guardarli con il dovuto rispetto. È come rispettare l'animo del popolo giapponese. Il fatto che Ohira-san, un giocatore giapponese di baseball, sia stato riconosciuto nel mondo del baseball americano, sembra simboleggiare lo spirito del Giappone. gli hanno assegnato il primo premio del baseball per i vari elementi giapponesi presenti nel suo comportamento, come la spiritualità, la disciplina e la cortesia che trasparivano. E penso che sia lo stesso con il bonsai. Non basta che il bonsai esista e basta. È lo spirito dell'artista e dell'apprendista che decora il bonsai e che lo fa splendere. e così facendo fa splendere il bonsai ancora di più. Ecco perché è importante. In questo senso il bonsai non è ancora a livello di Ohira-san. D'ora in poi i bonsai devono arrivare a prendere il primo premio più importante come nel baseball. C'è ancora molta strada da fare. Se non facciamo questo, il tempo in cui i bonsai avranno un loro posto nel Tokonoma non arriverà mai. Kobayashi Sono la terza generazione e per questo sento una grande responsabilità. Voglio ereditare le aspirazioni del maestro Katayama e del maestro Sudo e avere a cuore la cultura giapponese e l'orgoglio di essere giapponese. Voglio ereditare questo. Sudo Questo è il Tokonoma, uno spazio simbolico. Federatore Si vuole raggiungere una situazione in cui tutti i giapponesi comprendano lo spirito dell'allestimento di bonsai allo stesso modo di Otani che è stato eletto all'unanimità. Come il maestro Kobayashi ha detto prima il bonsai è gioia di fare e allo stesso tempo è gioia di allestire. Ma è qualcosa che può essere compreso solo quando viene esposto in un allestimento. Penso che questa mostra e gli allestimenti dei bonsai esposti da tutti voi ci ricordi che c'è uno spazio che ci fa capire cosa vuol dire vedere molti bonsai messi sugli scaffali esterni uno accanto all'altro e cosa vuol dire esporre un bonsai solo dopo che è stato esposto nel Tokonoma. ora vi mostrerò le immagini delle opere esposte in questa mostra e vorrei che le guardaste e che ce le spiegaste. Per coloro che non hanno mai visto il museo del bonsai la sala espositiva è uno spazio dove si può abbellire una stanza di tatami come questa e noi abbiamo creato tre stanze di tatami con diversi stili in ognuno di essi si può esporre un bonsai la prima opera è un pino a cinque aghi del maestro Sudo l'ha chiamato Yushou Pino Yugen il rotolo appeso è Maigetsu Seifu cioè l'una bella e vento puro di Shuan Munetoshi del tempio Daik Tokuji di Kyoto e non si vede bene nella foto ma a sinistra c'è una statuetta di due eremiti Kanzan e Jitoku di Kumagai Kotaro questo è un kazari composto di tre elementi con una citazione dell'artista per accompagnare l'opera il tema di questa opera è basato su una delle frasi poetiche di Kanzan vero un vento leggero soffia tra i pini più ci si avvicina a sentirlo più bello è il suono si passa ogni giorno confrontandosi con il bonsai prendendo consapevolezza della propria vita sudo è una poesia bellissima che è proprio adatta al bonsai spero di riuscire a creare un'atmosfera tale per cui tutto il salotto si è impregnato nel profumo di questa poesia l'albero principale modesto e tranquillo e la luna brilla nel ruscello come una brezza leggera proprio come la poesia per questo l'ho intitolato Iumazzo o meglio Pino Iugei così il quadro cioè il paesaggio è stato completato moderatore un bonsai un rotolo con scritto Meighezoseifu una bella luna e un vento puro e la statua di Kanzan questi tre elementi presi in posti completamente diversi creano un paesaggio con lo stesso tema questa è la bellezza del casale sudo giusto la disposizione la combinazione e la presentazione di ogni opera d'arte si combinano per completare un unico quadro questa è l'ospitalità del padrone che accoglie gli ospiti moderatore anche lo spettatore dovrà decifrare le opere sudo si proprio così Kobayashi la cosa importante di Kazari è capire il flusso dell'albero e dove mettere lo spazio vuoto secondo il flusso a destra o a sinistra all'estendo si può ritrovare il flusso sudo sudo noi bonsaisti non ci rendiamo conto dei pregi e dei difetti dell'albero finché non lo mettiamo in uno spazio ecco perché stiamo sempre studiando in uno spazio ideale la mostra la mostra dell'artista è l'artista che allestisce ma è anche come se fosse l'artista stesso che diviene parte dell'allestimento quindi è un luogo di apprendimento Kobayashi non riesci a vedere bene il flusso dell'albero mentre stai lavorando con la pianta davanti a te te ne rendi conto quando lo metti nel tocco nome il flusso è la cosa più importante sudo quindi vale a dire che senza uno spazio ideale la vera qualità del bonsai non può essere espressa pienamente non puoi vederlo quando sta sullo scaffale moderatore nel caso di questo albero è un flusso verso destra? sudo sì flusso dell'albero è a destra e quindi la sua posizione è a sinistra Shidari Katte Migiri Miginagare Kobayashi c'è Yohaku cioè uno spazio vuoto sulla destra questo spazio vuoto è importante è importante immaginare e esprimere cose invisibili nel vuoto sudo all'aspetto di un albero delicato ma ha 300 anni da quando è stato preso in montagna e sono passati 100 anni in vaso moderatore quindi è un albero vecchio che ha passato tanto tempo nel vaso sudo sì quindi l'albero ha 300 anni per 100 anni è stato coltivato da persone e questa forma è quella che ha oggi quello che percepisco dall'aspetto attuale di quest'albero è l'immortalità del pino il pino il pino dà energia a chi lo coltiva riceviamo una buona energia dal pino e gli aghi del pino sono verdi e freschi come quando è nato sono uguali anche se sono passati 300 anni quando si espone un pino che è un silbero di longevità tutta la stanza si riempie di vitalità questo è vero piacere di allestire con un bonsai di pino di conseguenza per diventare un bonsai deve vivere a lungo sano i bonsai giocano un ruolo importante da questo punto di vista questo è il motivo per cui le persone ricche i signori feudali e importanti imprenditori coltivano bonsai da molto tempo perché hanno tutto ma quello che vogliono di più alla fine è lunga vita ed energia e vogliono ottenere questo dal bonsai Kobayashi si ottene l'energia chi dal bonsai Sudo Elisir di lunga vita questo è il bonsai Moderatore Maestro Kobayashi lei ha scritto Kinseido cioè che l'opera d'arte è piena di stile elevato ed eleganza così come un vivace senso della vita Kobayashi la cosa di cui ha bisogno un'opera d'arte o un bonsai è la raffinatezza nel bonsai le quattro cose che sono importanti sono personalità armonia raffinatezza e le caratteristiche di albero ma non va bene se non c'è raffinatezza alla fine è di questo che ha bisogno sono andato a vedere la mostra di Niten mostra di arte contemporanea e i quadri dei miei amici sono molto eleganti un'opera d'arte deve avere presenza e raffinatezza il pino rosso del maestro sudo è così sottile ma ha una forte presenza sudo un pittore può dipingere a distante ciò che vuole raffigurare che abbia mille anni o 500 anni ma un bonsai cresce al massimo un poco in un anno e devi solo continuare su questo per creare la forma di un singolo rame non c'è niente che un artista bonsai possa creare per ottenere una certa forma è necessario lavorare tanti anni è qui che si trova il vero piacere del bonsai i pittori possono creare istantaneamente il quadro ideale per noi ci vogliono da 30 50 anni perché un ramo diventa ideale questo è il vero fascino del bonsai c'era un artista di bonsai cinese che ha impiegato 30 anni per creare un solo ramo ci sono voluti 30 anni perché era una caducifoglia ma se fosse stato un pino ci sarebbe voluti 50 anni così un bonsai diventa un bonsai famoso come risultato della vita della devozione quotidiana molte persone sono coinvolte nel processo di realizzazione di un grande albero bonsai ecco perché esiste il museo del bonsai questo genere di cose può essere conservato per le generazioni future solo se viene esposto pubblicamente questo è l'unico museo di questo tipo al mondo quindi vorrei che fosse conservato per le generazioni future moderatore maestro Kobayashi lei ha anche ricevuto un premio dall'agenzia per gli affari culturali il che significa che il bonsai ora ha riconosciuto come una vera forma di cultura tornando all'allestimento del maestro Sudo questo pino che ha un movimento verso destra ed è posizionato a sinistra e c'è un grande spazio vuoto sul lato destro che gli occidentali vorrebbero riempire ma questo spazio è lasciato vuoto di proposito Sudo questo è lo Yohaku lo spazio vuoto è uno spazio dove tutte le cose inutili vengono rimosse per creare il paesaggio più semplice e più grande possibile da immaginare Moderatore qui si immagina uno spazio ricco nella sua testa Kobayashi la cultura giapponese è così ti fa immaginare cose che non puoi vedere nel mondo del no Zeami dice Hisureba Hananari ciò che è veramente importante deve essere nascosto agli altri se lo metti da qualche parte e lo mostri diventa giardinaggio e non dovrebbe essere giardinaggio Sudo uno spazio vuoto è un punto essenziale della cultura giapponese si toglie e si lascia sempre più vuoto è la mente umana che riempie gli spazi vuoti ci sono vari paesaggi in una mente umana ci sono diversi paesaggi nella mente di ogni persona i diversi paesaggi vengono proiettati in uno spazio vuoto in modo che tutti possano essere soddisfatti moderatore sono la mente delle persone e la mente degli spettatori a riempire il vuoto ecco perché anche i paesaggi sono vari Sudo così da quel momento lo spazio si trasforma nello spazio di quello spettatore si crea il proprio sfondo questa è una delle parti migliori è molto divertente del Kazari moderatore con la frase maeghezuseifu bella luna vento fresco un ideogramma che compone la frase o la statuetta di Kenzan può diventare uno spunto per creare il paesaggio Sudo Kobayashi si proprio così Kobayashi non si può mostrare tutto se non mostri tutto lo spettatore avrà un modo diverso di immaginare si può vedere la luna sopra il mare o si può vedere qualcos'altro questo dipende dallo spettatore moderatore l'unica cosa concreta è la luna il vento è invisibile all'occhio Kobayashi ma alcuni lo vedranno mentre altri sentiranno il canto degli uccelli tra i rami dei pini dipende dalla persona dipende dalla mente dello spettatore Sudo è uno spazio che può essere riempito nel paesaggio mentale di qualsiasi persona Kobayashi hai espresso bene maestro Sudo esattamente così il bonsai è nato in Cina 1300 anni fa ed è arrivato in Giappone 800 anni fa l'attuale forma di bonsai è stata stabilita dalla sensibilità unica del popolo giapponese al cambio delle stagioni ed è stato il popolo giapponese a stabilirla moderatore quindi è stato sublimato come bonsai Sudo è lo stesso di come la scrittura fonetica hiragana è nata dagli ideogrammi kanji e poi la poesia waka è nata dallo hiragana ma la fonte della cultura veniva tutta dalla Cina moderatore in Cina viene chiamato bonkei è diverso da bonsai è la stessa cosa Kobayashi ma penso che i bonsai cinesi siano un po' più grandi il modo di rendere lo spazio è diverso Sudo questo è probabilmente dovuto alle differenze culturali spirituali e nazionali i paesi continentali e insulari sono molto diversi moderatore e il concetto dello spazio vuoto Sudo no non esiste in Cina moderatore quindi questo spazio sulla destra è di grande importanza Sudo sì esattamente così questo è un concetto estetico unicamente giapponese nemmeno il mondo delle yu gen esiste in Cina ho dato il titolo yu mazu pino yu gen a questo pino ma ha un significato diverso moderatore abbiamo dedicato molto tempo al commento del lavoro del maestro Sudo ma lei ha parlato prima di togliere le cose il più possibile e anche il lavoro del maestro Kobayashi che vedremo dopo è stato creato con il significato di togliere Kobayashi volevo creare un flusso in questo albero questa forma originale era triangolare la foto a sinistra era la forma originale è un triangolo equilatero vero i cinesi prendono in giro i bonsai giapponesi dicono che i bonsai giapponesi abbiano tutto la forma di un onigiri o polpette di riso di forma triangolare ogni bonsai che vedete ha questa forma che vedete a sinistra la stabilità necessaria ma troppa stabilità non è interessante deve esserci un senso di stabilità all'interno dell'instabilità e poi deve esserci la bellezza del disordine quello che ho imparato dal maestro Sudo è l'importanza di imparare dagli alberi per fare un bonsai bisogna imparare dall'albero quando ho guardato quest'albero c'era una radice chine cioè radice che cresce in direzione opposta al flusso dell'albero e il primo ramo sascieda era il ramo chiave di questo albero e volevo usare questa linea così ho fatto uso della radice chine e del ramo sascieda per fare inclinare l'albero a sinistra e poi ho ridotto tutto quello che c'era a destra ed è così che ho fatto per farlo diventare come albero nella foto a destra ho davvero imparato tutto sulla costruzione degli alberi dal maestro Sudo ha detto impara dagli alberi gli alberi ti insegnano se guardi un albero l'albero ti dirà come vuole essere fatto Sudo non puoi farlo se il bonsai non ha una mente abbastanza flessibile da accettarlo se l'artista non è abbastanza flessibile per accettarlo non può farlo imparare da un albero significa che si può essere flessibile e cambiare in qualunque modo come artista è importante contivare anche questo tipo di spirito il maestro Kobayashi ha potuto farlo di recente credo negli ultimi due o tre anni fino ad allora purtroppo quella parte non c'era quest'opera è un capolavoro iniziale che tenta di farlo Kobayashi ho imparato da Shinpaku il ginepro che mi ha regalato il maestro Sudo moderatore è quel famoso ginepro Kobayashi sì mi è stato insegnato a costruire bonsai passando da una visione piatta alla realizzazione tenendo conto dell'importanza delle linee e del flusso ho preso ho preso queste parole come suggerimento e le ho fatte mie era facile da fare potevo farlo in due ore ma mi ci sono voluti 40 anni per arrivarci moderatore ci vogliono 30 anni per costruire un ramo e 40 anni per raggiungere la linea Kobayashi ci sono voluti 50 anni per capire finalmente così nel bonsai significa che solo ora posso vederlo sudo come abbiamo parlato prima riguardo al fatto che per il Sekikazari Yohaku è fondamentale anche nel bonsai è importante Yohaku c'è il vuoto il problema è quanto eccesso può essere rimosso quest'albero che vediamo ora è il risultato della eliminazione delle cose non necessarie se te ne accorgi potrai costruirlo in un attimo se non te ne fossi accorto sarebbe cresciuto lo stesso per 40 50 anni quindi bisogna imparare a dedicarsi ad esso non dovremo trascurare i nostri sforzi per arrivarci il maestro Kobayashi è veloce a costruire quando se ne rende conto si muove rapidamente ha messo solo del tempo per rendersene conto nessuno è cresciuto tanto quanto il maestro Kobayashi in 50 anni per quanto ne so ci sono poche persone che sono cresciute così tanti in 50 anni partendo da zero Kobayashi grazie al suo ottimo insegnamento sudo sono stati tutti tramandati di generazione e generazione come il maestro Yamada e sono diventati abili maestri moderatore il signor Kobayashi è entrato nel mondo del bonsai più di 40 anni fa ha accumulato esperienza e ha fatto sforzi incessanti in questi 40 anni ed è riuscito a giungere a costruire questa linea divene all'interno dell'associazione di bonsaisti c'è una fratellanza una relazione tra voi due Kobayashi io sono una persona semplice e ricevo cose utili dalle persone per questo sono riuscito a crescere sudo non lo è affatto il maestro Kobayashi fa scelte difficili riguardo alle persone non ascolta le persone sceglie importanti sceglie persone che vanno bene per lui quindi ha un occhio buono è lo stesso che scegliere i materiali per i bonsai è importante scegliere il materiale giusto scegliere un buon maestro è ancora più importante il maestro Kobayashi è un genio in questo senso moderatore anche questo Satsuki delle foto a sinistra prima della revisione ha vinto un premio vero? Kobayashi si ha vinto un premio moderatore la radice che era dietro il lato destro della base prima della modifica e il fronte è stato girato di 45 gradi in questo modo Kobayashi la parte anteriore è stata girata di 45 gradi e la radice in fondo a destra è stata trasformata in una radice di Hikine con un ramo a sinistra che ha personalità e i rami a destra sono stati resi più piccoli per creare spazio e una bellezza dinamica instabile c'era una buona radice Hikine e sono riuscito a modificarla nella sua forma attuale moderatore il primo ramo che era allungato sul lato destro è stato tagliato in modo significativo e così è riuscito a creare un flusso Kobayashi Sudo non solo è stato creato il flusso ma gli ha dato anche un aspetto antico questo albero giovane ora sembra vecchio anche questa è una tecnica moderatore rendere vecchio significa che si può vedere il movimento dei rami Sudo Sì moderatore non è visibile tra i ciuffi di fogliame vigoroso Sudo è stato creato Yohaku ed è lì che si crea un ritmo e l'albero comincia a avere movimento moderatore così si ha movimento Kobayashi il Satsuki è come l'erba di un campo da golf che viene tagliata ordinatamente con le forbici ho visto il pino rosso che il maestro Yamada ha esposto in questa mostra i rami sono molto più in alto sono stato molto ispirato dal suo stile sono stato davvero ispirato quando ho visto lo stile del maestro Yamada non si vede la mano dell'uomo il bonsai viene creato da un uomo ma non va bene far vedere troppo evidenti la mano dell'uomo per questo mi sono commosso davvero Sudo dopo tutto un bonsaista di prima classe può imparare dagli alberi riesce ad annullarsi moderatore a questo proposito il pino rosso del presidente Yamada è molto elegante il rotolo appeso è una calligrafia di Nakamura Fusezu il laterale è la pianta di Komayumi e il ripiano laterale dello scaffale superiore è allestito con un bruciatore di incenso con un mukoshishi cioè leone rivolto verso la direzione del sole le parole del presidente Yamada citano il vecchio pino rosso che ho acquistato più di dieci anni fa è stato continuamente modificato e finalmente finito in questo lavoro quindi è importante incontrare un materiale albero Kobayashi nel bonsai c'è un termine Keisho Sodai che significa fare una forma piccola per esprimere una forma grande questo significa esprimere una forma grande su un vaso piccolo il pino rosso del maestro Yamada sembra grande è strano vero? una volta ho comprato un cedro per imparare da lui e anche quello sembrava stranamente grande è lo stesso il satsuki del maestro Kobayashi e di cui è stata trasformata la forma eliminando le parti non necessarie Kobayashi perché sembra più grande? Sudo quando l'equilibrio è giusto sembrano più grandi se non è equilibrato si restringe solo la larghezza diventa più lunga anche se il tronco è spesso quindi dobbiamo rimuovere le cose non necessarie se accorciate forzatamente la larghezza della chioma in linea con la larghezza del tronco il tronco sembrerà più spesso e anche il dinamismo del movimento del tronco sarà accentuato Kobayashi in breve in breve è importante la linea è il movimento dell'albero è questo il bello del maestro Yamada Sudo il maestro Yamada è l'unico bonsaista che può fare questo lavoro Kobayashi sono d'accordo anche il suo albero di prugno è magnifico il bello di lui è che sfrutta al massimo le caratteristiche dell'albero è davvero un maestro ci sono molti bonsaisti che modificano gli alberi con il proprio stile ma il maestro Yamada è diverso penso che sia più appropriato dire che impara dagli alberi Sudo il suo spirito di bonsaista è cresciuto molto soprattutto negli ultimi due anni e poi è energico è incredibile che lui sia ancora energico nonostante la sua età Kobayashi il pittore Togio Okumura ha detto che voleva ancora disegnare il monte Fuji quando aveva 100 anni mi chiedo che tipo di bonsai farebbe se il maestro vivesse fino a 100 anni mi piacerebbe vederlo Sudo non importa che tipo di maestro tu sia un bonsai cresce per tutti anno per anno un anno è un anno per me e anche per il maestro Yamada questo è ciò che ci rende diversi dagli altri artisti non importa quanti progressi facciamo possiamo farlo solo per un anno un anno per entrambi un anno per i bonsai un anno per i bonsaisti non si può fare nulla basta aspettare il tempo invecchio devo continuare a provare fino a 100 anni Kobayashi il bonsai richiede tempo quindi il bonsai è il tempo che passa moderatore si spendiamo un sacco di tempo Sudo il bonsai è oltre l'arte quindi una super arte tutto quanto solo chi l'ha fatto può dirlo è stato il maestro Tomio Yamada a trascendere il bonsai ha fatto di tutto nel bonsai è un super artista di bonsai è un bonsaista di cui possiamo essere orgogliosi moderatore il pino rosso di questa mostra è uno di questi esempi ma poiché il suo giardino di bonsai il Seikai si trova a Omia ho spesso l'opportunità di vederli esposti lì ma il modo in cui appare nel giardino bonsai è il modo in cui è esposto nella stanza dei tatami sono completamente diversi mi chiedo sempre perché quando il bonsai è esposto all'esterno il movimento dei rami si perde sullo sfondo e i rami non si possono vedere chiaramente ma quando sono esposti nella stanza diventano nitidi e saltano agli occhi credo che sia qui che sta la grandezza dell'artista sudo un'altra cosa è che rende più elegante il bonsai sono il vaso il tavolino e gli oggetti di accompagnamento che vanno usati solo per le persone che possono capire la loro raffinatezza il maestro Yamada li usa magnificamente usandoli la raffinatezza del bonsai viene ulteriormente esaltato Kobayashi si tratta di aumentare l'eleganza sudo quindi dobbiamo anche coltivare la capacità di capire il valore di vasi e tavolini raffinati cioè come dovrebbe essere un vaso o un tavolino importante il signor Yamada è capace di farlo vedete questo kakejiko meraviglioso moderatore si adatta perfettamente all'attuale stagione di fine autunno sudo quindi bisogna avere una capacità di valutazione totale non basta fare bonsai Kobayashi quindi armonia personalità è lo stesso con la lavorazione di bonsai e seki kazari moderatore si tratta di un'armonia dei seguenti tre elementi tavolino bonsai e vaso sudo in questo modo si rende elegante l'allestimento Kobayashi Katayama ha detto che il tokonoma è la stanza di una persona nobile dato che il tokonoma è la stanza di un nobile dove si mettono i bonsai che contengono terra deve essere pulito a fondo per eliminare tutte le impurità sudo è un luogo sacro quindi non dovrebbe essere contaminato moderatore i bonsai che contengono terra sono esposti nel tokonoma questo era qualcosa che non era mai stato fatto prima Kobayashi l'architetto tedesco Bruno Julius Florian Taut ha detto che il Giappone è un paese incredibile e che ogni casa ha il suo museo in altre parole un tokonoma aveva una così alta stima del tokonoma sudo proprio così è uno spazio in cui si condensa il livello culturale del proprietario della casa le stagioni e gli eventi del tempo sono tutti condensati e visualizzati nel tokonoma se non hai questo tipo di consapevolezza e un buon occhio per gli oggetti allestiti il tokonoma non si mostrerà sempre come dovrebbe in un museo moderatore quindi questo spazio è qualcosa che è necessario che vediamo dalla parte dello spettatore e su cui possiamo fare discussioni approfondite Kobayashi il luogo dell'ospitalità moderatore la mostra è aperta fino al 24 quindi vorrei che vi sedeste di fronte a questo posto e immaginaste nella vostra mente le connessioni tra i bonsai i vasi kakejiku e gli accessori e vedeste cosa si sta cercando di trasmettere Sudo è un luogo dove l'aspettatore può metterci la propria sensibilità e guardare se stesso puoi valutare te stesso davanti al tokonoma alcune persone possono vedere tutto dell'artista altre non possono vedere tutto è interessante vedere come sia chi fa il bonsai che lo spettatore mutualmente possono migliorarsi moderatore fa venire voglia di studiare di leggere i caratteri del kakejiku di conoscere il significato sapere da dove viene la frase eccetera attraverso lo studio ci si rende anche conto di cose nuove il zashiki kazari è davvero profondo è un insieme di cose diverse è una gioia fare bonsai e allestirli nella stanza del tatami dove c'è uno spazio apposito e qui si possono vedere paesaggi diversi Sudo ognuno di noi ha il proprio mondo ideale in ogni momento e questo è un luogo dove possiamo guardare quel mondo ideale dentro di noi e penso che dovrebbe sempre cambiare preferisco chiamarlo cambiamento o crescita moderatore sta dicendo che sia il maestro Sudo che il maestro Kobayashi sono in crescita Sudo penso che dovrei crescere moderatore non posso dire se la visione che voi vedete ora e quella che vedo io siano le stesse ma ho imparato ancora una volta l'importanza di essere dirigenti e di vedere le cose come sono Sudo è interessante perché ognuno ha qualcosa di diverso l'idea è quella di costruire uno spazio dove si può condividere delle bevande o bere il tè moderatore quindi sia nel Shunkain del maestro Kobayashi e nel Chikufuem del maestro Sudo ci sono posti del genere vorrei che tutti coloro che stanno guardando visitassero non solo questo museo di bonsai ma anche i giardini di bonsai di questi due maestri e vorrei che voi vedeste la realizzazione del bonsai e la realizzazione dello Zashiki è quasi ora di chiudere quindi vorrei concludere ora per favore date un messaggio di chiusura Sudo penso che sia stata un'opportunità per entrare in contatto con la cultura giapponese in particolare il Keido vorrei che tutti potessero godere ed entrare in contatto con la cultura giapponese attraverso questo meraviglioso luogo qui a Omia spero che rivaluterete il Giappone e godrete dei vari aspetti positivi della cultura giapponese e li incorporerete nel vostro mondo come parte della vostra vita e cultura quotidiana Kubayashi il bonsai è piacevole da creare divertente da vedere crescere e c'è molto da imparare da esso quindi per favore iniziate a coltivare il bonsai non deve essere un bonsai costoso ce ne sono anche di economici fare bonsai è un'attività molto profonda moderatore grazie mille vorrei creare un luogo in cui il grande pubblico possa entrare in contatto con questa cultura tradizionale giapponese al fine di ampliarne la portata inoltre come ha detto il maestro Kubayashi inizierò a provare la coltivazione del bonsai si può provare a fare un bonsai a casa del maestro Kubayashi e anche il museo del bonsai organizza incontri di questo tipo una volta che si fa un bonsai ci si affeziona adesso e lo si vuole coltivare per anni credo che questa sensazione continuerà per 30 o 40 anni le ultime due parole sono molto importanti e vorrei che tutti accettassero questa sfida ho imparato molto da quello che avete detto sotto forma di dialogo a nome del pubblico vorrei ringraziarvi entrambi per il vostro tempo grazie mille per il discorso durato un'ora molto intenso di oggi il dialogo può essere visto anche sul nostro canale youtube per i ragazzi di per i che la